Scegliere l'autosata perfetta non è facile. Bisogna seguire il procedimento giusto. Per prima cosa si deve considerare la possibilità di acquistare un'auto usata. Poi comincia la ricerca. Si possono guardare i siti internet dedicati oppure le riviste specializzate. A questo punto non resta che vedere di persona le auto che sembrano più interessanti. E nelle concessionarie BMW Premium Selection, grazie alla consulenza di un venditore, si scoprono finalmente i vantaggi del programma usato garantito di BMW. BMW Premium Selection è l'usato di eccellenza BMW. Ma come fa una BMW a diventare Premium Selection? Innanzitutto deve avere meno di 5 anni di età. E comunque meno di 120.000 km. Poi deve aver superato tutti i controlli effettuati dai tecnici BMW per verificare la perfetta efficienza e sicurezza di tutte le sue parti e avere 24 mesi di garanzia sul veicolo e 24 mesi di assistenza stradale gratuita. Inoltre, proporre sempre delle soluzioni personalizzate, studiate per offrire di più. Tutto incluse nel prezzo. A questo punto, basta scegliere il modello preferito dalla vastissima gamma disponibile di BMW Premium Selection. Poi basta solo una firma. Il modello BMW Premium Selection è finalmente a disposizione. È così che si conclude un'esperienza da raccontare a tutti. Ora, non resta che provare l'unica cosa di BMW Premium Selection che è impossibile di scrivere sulla carta. Il piacere di guidare.